benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere la procedura per effettuare un ordine dalla nuova versione del sito myherbalife quindi una volta fatto il login entriamo nel nostro sito personale myherbalife e andiamo qui su shop poi supponiamo che io devo comprare un formula 1 andrò su nutrizione interna prodotti base ok qui troverò tutti i formula 1 troverò gli snack troverò il formula 1 in barrette troverò il formula 2 insomma guardate poi dopo un attimo voi tutto quello che c'è ok troveremo anche il kit prova herbalife oppure le bustine di formula 1 allora supponiamo che io adesso voglio comprare un formula 1 al cacao ok andrò qui e qui selezionerò le quantità io adesso ne aggiungo ne aggiungo una al carrello mi verrà chiesto se lo compro per uso personale o per venderlo a un cliente nel mio caso per uso personale qui dovrò scegliere una spedizione direttamente a domicilio oppure un ritiro diretto nel mio caso direttamente a domicilio e selezionerò il mio indirizzo se ancora voi non avete un dirizzo di spedizione dovete inserirlo una volta selezionato faccio spedisce a questo indirizzo l'indirizzo è stato aggiornato poi ritornerò in automatico alla pagina dei prodotti base adesso supponiamo che io voglio comprare sempre un formula 1 però non al cacao clicco comunque sul cacao vedete e qui sotto troverò diciamo tutti gli altri gusti supponiamo che io adesso voglio comprare un formula 1 lampone mirtillo cliccherò qui ok e da qui direttamente vado ad aggiornare le quantità ne compro uno e faccio aggiungere il carrello in automatico vedete il carrello segna già due articoli adesso supponiamo che voglio comprare una crema quindi vado sulla nutrizione esterna e vado sulla linea skin anche qui poi dopo con calma guardate bene tutto quello che c'è a me interessa lo scrub vado a selezionare le quantità e vado su aggiunge il carrello il carrello adesso segna quattro articoli se io clicco direttamente qui sul carrello lo visualizzo per intero vedete nel mio caso un formula 1 al cacao un formula 1 lampone mirtillo e due scrub ok qui avrò tutti i dettagli dell'ordine e vado su procedi se è tutto ok vado su procedi posso decidere se la fattura spedirla direttamente a via email al membro oppure all'interno del collo io la voglio all'interno del collo e una volta ancora verificato che sia tutto ok vado su procedi ok adesso mi verrà chiesto di effettuare il pagamento tramite carta di credito bonifico bancario una volta fatto il pagamento inserite andate qui su in oltra ordine e l'ordine sarà stato effettuato questo è il totale complessivo che io in questo caso andrò a pagare avendo lo sconto del 50% vi ringrazio per l'attenzione se avete dubbi o domande questo è il mio numero di telefono questa è la mia email non esitate a contattarmi un feedback qui sotto nei commenti mi farebbe molto piacere oltre che è un bel like grazie mille e ci vediamo al prossimo video vi ringrazio per l'attenzione